Si parla di eventi natalizi a Caltanissette, c'è l'intervento della quinta commissione consigliare diretto all'amministrazione. Sì, abbiamo ritenuto opportuno scrivere un comunicato stampa che ripercorresse quanto fatto l'anno scorso dalla stessa quinta commissione unitamente alla Prologo e quanto fatto quest'anno. Ormai da un anno proviamo a interagire con l'amministrazione, sindaco e assessore campione per provare a realizzare nuovamente il format proposto l'anno scorso alla nostra città, ma alla nostra provincia perché anche tanta gente da fuori è venuta, ovvero Città del Natale. L'amministrazione ha ritenuto opportuno quest'anno non tener conto delle nostre sollecitazioni e ad oggi non sappiamo realmente cosa avverrà per il Natale, quali iniziative saranno proposte ai nostri cittadini, ma non sappiamo neanche a che fine abbiano fatto le luminarie e tutta una serie di cose che l'anno scorso, pur in netto ritardo, sono state inserite nel nostro centro storico, sono state inserite nelle giornate natalizie proprio per dare quello spirito che ogni anno è d'obbligo che un comune dia ai suoi cittadini. Il problema è uno. Non sappiamo ad oggi cosa l'amministrazione stia facendo perché non c'è nessun atto in campo in questo momento che possa in qualche modo farci pensare che qualcosa si sia attivato. Ci dispiagge, ci dispiagge e ci dispiagge soprattutto che l'amministrazione non abbia avuto la lungimiranza di proseguire su quel format proposto dalla Quinta Commissione, portato avanti. È piaciuto tantissimo ai cittadini. Qual è la vostra proposta? La nostra proposta, e l'abbiamo fatta a questa amministrazione, è già dal gennaio 2017, ovvero un mese dopo il Natale che abbiamo organizzato insieme alla Proloco l'anno scorso. Un Natale che ho visto coinvolgere tantissime associazioni, artisti e che ha avuto il successo che tutti conosciamo. Quest'anno bastava fare un semplice copia e incolla. Quest'amministrazione non è stata in grado neanche di copiare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e riproporlo quest'anno. Da gennaio 2017 abbiamo iniziato a convocare in audizione Sintaco e l'allora Assessore Campione per verificare quali erano le cose da aggiustare, quali erano le cose da perfezionare in merito al Natale appena finito, per iniziare a pianificare il Natale del 2017. Quindi con un anno di anticipo. Oggi come anche l'anno scorso ci troviamo alle porte del Natale, ci troviamo quasi all'Immacolata, quindi all'inizio vero delle festività natalizie, senza una programmazione, senza aver pianificato alcunché, senza nessun atto pubblico amministrativo pubblicato nell'albopretorio. Abbiamo sentito inoltre delle dichiarazioni del neoassessore alla cultura che durante una trasmissione riferiva di aver avuto delle linee guida dalla quinta commissione. Noi con questo comunicato abbiamo voluto fortemente smendire queste dichiarazioni perché noi non abbiamo avuto ancora neanche il piacere di conoscere questo Assessore presso la nostra commissione. Saremo grati sì di dare delle linee guida, però ancora una volta ci troviamo qualche giorno prima di Natale e ci rendiamo conto che la città non ha visto neanche l'installazione delle luminarie, non è stata pianificata nessuna programmazione della seconda edizione della città del Natale. Come diceva giustamente il collega, l'organizzazione l'anno scorso doveva essere un punto d'inizio, nel senso che l'obiettivo della commissione era quello appunto di, anno dopo anno, creare questa città del Natale cercando di far diventare Caltanissetta attrattiva anche per tutta la regione Sicilia e quindi per tutti i siciliani. Questo purtroppo a causa di questa amministrazione non potrà avvenire perché dopo il grande successo dell'anno scorso, quest'anno ahimè ci rendiamo conto che il Natale sarà purtroppo triste. Noi l'anno scorso la città del Natale l'abbiamo tra virgolette inventata in meno di 20 giorni. Il punto è un altro, non possiamo parlare sempre di navigare a vista. Le cose si programmano, il Natale arriva ogni anno, l'estate arriva ogni anno, le quattro stagioni, tutto arriva ogni anno, la riflessione scolastica ogni anno si ripete. Ci sono una serie di cose che hanno delle date ben precise, come la settimana santa, arriva ogni anno. Oltretutto mi preme precisare, l'anno scorso in ritardo abbiamo affittato, per esempio, sono stati affittati gli stand di gazebo per il mercatino di Natale, costando quasi 9.000 euro. Quest'anno avevamo sentito anche coloro che noleggiano questa tipologia di struttura, ci dicevano vabbè, pensandoci uno, due, tre mesi prima, chiaramente l'importo verrà notevolmente dimezzato, notevolmente ridotto. Credo proprio che quest'anno saremo nuovamente al punto da capo di come l'anno scorso alla fine.